Stefano Di Martino, reduce dal successo di Made in Sud, è stato ospite a Dominica Inn insieme a Fatima Trotta. Carriera a parte, a Ziamara non è sfuggito un dettaglio. Il ballerino infatti in diretta sul Rai 1 ha mostrato nuovamente la fede nuziale dopo un ricongiungimento ormai ufficiale con Bella Rodriguez. I due si erano separati pochi anni fa, ma dopo le recenti foto che li hanno visti, paparazzati con baci a bracci, insieme al figlio Santiago, i dubbi sono svaniti. Ti sei messo la fede al dito, si annota tutto, l'ultima volta non ce l'avevi, ha detto Mara Di Martino, che di certo non ha negato.